Ecco direttamente da Montembarchi il pan briacone, questo in realtà è una variante, il bria rum che è diverso dal pan briacone classico che è col vinsanto, questo appunto è con il rum e ce n'è anche parecchio di rum, quindi è fedele diciamo al suo nome di pan briacone. E' fatta la pasticceria a bonci, dentro non c'è più perché ho già mangiato mezzo, comunque oltre a questa sorta di panettone c'è anche un bigliettino dove ci fanno vedere gli altri tipi che fanno perché non c'è solo al vinsanto e al rum, c'è solo vari tipi tra cui l'ultimo arrivato è questo qua rosa con fragole e poi c'è anche qui una sorta di sciroppo. Comunque andiamo a vedere il nostro, cioè quello al rum che è fatto con gocce di cioccolata fondente e poi è fraticio di liquore, infatti io l'ho messo anche sopra degli scottets perché è veramente bagnato, è morbidissimo anche questa cioccolata fondente, è veramente buona. L'unica cosa, è tutto era fraticio dopo qualche giorno che l'ho aperto, io non sono proprio un alcolizzato, se gli piace il liquore, è veramente buono, è veramente soffice, cioè io sono veramente impressionato, però magari il prossimo anno prendo quello al vinsanto, anche quello rosa, che mi ispira abbastanza perché come pasticceria merito veramente, questo credo sia quello originale che lo fanno a Montevarchi, ne ho visti anche altri nei supermercati, non l'abbiamo preso proprio alla fabbrica. Comunque ve lo consiglio, anzi ora finisco di parlare e mangiare, me lo mangio, voi continuate a seguirci, insomma iscrivetevi anche al nostro canale Il Rifugio del Funghetto e ci vediamo al prossimo assaggio.